La tisiologia è una specializzazione della pneumologia e si occupa di studiare la tubercolosi polmonare, di cui la tisi è una sua forma in particolare. È grazie al medico e batteriologo Robert Koch che nel 1882 fu scoperto il bacillo, ossia la causa eziologica della tubercolosi. La tubercolosi è un'infezione provocata dal germe Mycobacterium tuberculosis. Generalmente, il germe della tubercolosi colpisce i polmoni, tubercolosi polmonare, ma può colpire anche tutti gli altri tessuti ed organi, tant'è che altre forme di questa malattia sono la tubercolosi ossea, che colpisce le ossa, e la tubercolosi cutanea, che colpisce la pelle. La tisiologia si avvale di diverse metodiche diagnostiche, dall'esame clinico ad accertamenti radiologici o endoscopici. È possibile diventare tisiologo, conseguendo la specializzazione alla Scuola di Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio, dopo la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e l'abilitazione alla professione. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Ci si rivolge al tisiologo, in presenza di sintomi anomali, che hanno necessità di essere indagati attraverso esami diagnostici specifici come Valutazione delle patologie a carico dell'apparato respiratorio con particolare attenzione alle componenti allergiche Esecuzione di spirometria con interfaccia digitale per una precisione assoluta nell'esame dei parametri del paziente Pulso simetria e possibilità di eseguire esami di polisonnografia domiciliare nel caso di sospette apnee notturne È bene prestare attenzione a sintomi sospetti come Respiro affannoso Stato confusionale Male al petto Nausea Agitazione Stai cercando il tisiologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di uma innovation Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link Su YouTube clicca sulla campanellina Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitari e Migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo Questa è un'idea di uma innovation Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto Vai su uno dei nostri siti Buona giornata